La proposta di Alfonso Signorini sul finire della puntata del 7 febbraio, il conduttore chiede a Belli di rientrare in casa per due settimane così da rimettere a posto le cose con Delia e Soleil. Alex Belli rientrerà nella casa del grande fratello Vip. In un incredibile, quanto prevedibilissima girandola, il triangolo Belli-Soleil-Duran avrà l'ennesimo capitolo con il ritorno in casa a tempo determinato di Alex Belli. L'annuncio è arrivato alla fine della puntata del reality di lunedì 7 febbraio. Dopo che durante la stessa Delia Durana ha annunciato di voler mettere fine alla sua relazione con Belli e, contemporaneamente, è stata scelta dal pubblico come prima finalista di questa edizione del reality. Ti propongo di rientrare nella casa per risolvere definitivamente la questione ha detto signorini e capire con chi voglia stare tra Soleil e Delia. Probabilmente l'ingresso in casa avverrà nella puntata di venerdì e si presume possa trattarsi di una permanenza di un paio di settimane. Nel corso della puntata Delia Durana ha preso la sua decisione, scegliendo di mettere fine alla sua relazione con Belli, o quantomeno di volersi godere queste settimane in serenità. Si è mostrata convinta e ferma sulla sua decisione, ma promette un confronto, la mia scelta è questa e se lui dice che il destino ha voluto questo, allora ben venga. Nella mia testa che percentuale c'è di ritornare con Alex? Nella mia testa, è difficile rispondere, devo affrontarmi con lui però per il momento ho già la mia risposta e la mia decisione. La mia decisione è di lasciarlo. La mia decisione è di lasciarlo. All'istith La mia